Sì che c'è niente ma basta un ferro, non so ma... Eh, ci penso io, quella pappa è già fina. Ma allora dobbiamo termine qui? Hai visto che non ci capisci non ti dobbiamo tutta la mano? Arrivando Super Magalini! Ahah, non dovrete mai il tesoro del frino? Addio Mammocchi e grazie tante per averci detto noi tesori. Grazie a tutti!